Ben trovati nel mio canale, io sono Anna, e in questo video ti svelerò una breve anticipazione sulla serie turca The Family, non dimenticarti di iscriverti al canale per non perderti i prossimi video e attivare la campanella per essere sempre aggiornata. Scopriamo insieme cosa accadrà nella seconda stagione. Il mondo delle serie televisive turche è noto per la sua abilità di mantenere gli spettatori incollati allo schermo, e, The Family, non fa eccezione. Le ultime puntate andate in onda su Infinity hanno portato con sé una serie di sviluppi sorprendenti e avvincenti. L'arrivo di Bedri. L'arrivo di Bedri, il cugino di Aslan, ha sconvolto l'equilibrio. Bedri, con il suo atteggiamento spavaldo e fumantino, ha rapidamente attirato l'attenzione di Aslan, che ha deciso di escluderlo da un importante affare legato al porto. Questo affronto ha spinto Bedri a cercare vendetta, portandolo a stringere un'alleanza con Cian e Ilias. Sospetti e tradimenti. Un evento drammatico scuote ulteriormente la trama. Aslan è vittima di un attentato e Bedri diventa uno dei sospettati principali. La madre di Bedri, Nedret, è la prima a dubitare dell'innocenza del figlio, allontanandolo sempre di più dalla famiglia. I suoi sospetti si intensificano quando scopre che Bedri ha incontri segreti con Ilias, un uomo con cui lei stessa ha avuto una relazione finita male anni prima. Segreti svelati. Durante uno di questi incontri, Ilias riesce a ottenere un campione di sangue di Bedri e decide di farlo analizzare. Con grande sorpresa, scopre che Bedri è suo figlio. Di fronte a questa rivelazione sconvolgente, Ilias minaccia Nedret. Le dà un solo giorno di tempo per rivelare la verità a Bedri. La grande decisione. La tensione è alta e tutti si chiedono. Cosa deciderà di fare Nedret? Rivelerà a Bedri la sua vera identità oppure tenterà di proteggere il suo segreto? I prossimi episodi promettono di portare nuovi ed emozionanti colpi di scena, tenendo gli spettatori col fiato sospeso. Non perdere le prossime puntate di The Family su Infinity per scoprire come si evolveranno queste intricate vicende.